ciao amici siamo in piena estate la prova costume va assolutamente superata voi cosa fate faccio una dieta estrema i chili persi così si riprendono tutti se volete dimagrire senza dieta mangiando cose buone e sane ecco i 10 cibi brucia grassi per dimagrire senza rinunce se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video ho fatto anche un altro video sulla prova costume lo trovate in descrizione e nella piccola i qui in alto andatelo a vedere 1 stoccafisso lo stoccafisso è un cibo tradizionale in italia per chi non lo conosce si tratta di merluzzo essiccato gli studiosi hanno scoperto che il processo conserva tutti i minerali come ferro potassio fosforo iodio e gli omega 3 2 anguria l'anguria ha pochissime calorie ma un grande potere saziante è idratante antiossidante diuretica trovate 10 ricettine creative per mangiarla in questo video 3 zucchine fantastiche per la linea quasi zero calorie diuretiche detto che si possono mangiare anche crude come fa vedere la mia amica serena in questo video 4 frutti di bosco i frutti rossi sono pieni di antiossidanti fondamentali per dimagrire perché eliminano le tossine che bloccano il potere brucia grassi del corpo 5 avocado ho spiegato tutti i benefici dell'avocado in questo video è ricchissimo di omega 3 e acidi grassi essenziali che lo rendono un cibo brucia grassi attiva metabolismo 6 pomodoro il licopene antiossidante che dona il colore rosso è un fantastico alleato per dimagrire 7 semi oleosi i semi di zucca girasole chia lino sono pieni di minerali grassi saturi amici della salute sono dei veri superfood che si possono aggiungere tritati alle insalate ai piatti preferiti per saperne di più vi lascio il link alla playlist in cui ne parlo 8 melone con il prosciutto meglio se da solo la frutta e le proteine animali non sono molto digeribili insieme e causano gonfiore mangiato da solo il melone saziante nutriente e poi è pieno di carotenoidi vitamina a e vitamina c tutti amici della pelle e della bronzatura 9 farro il farro era il cereale degli antichi legionari romani perché era leggero ma dava moltissima energia è ricchissimo di minerali e vitamina b ottimo per insalatone stive sfiziose 10 kefir noi lo facciamo con la tua ricetta bravi la trovate in questo video il kefir è una bevanda fermentata enzimatica che favorisce la digestione stimola il metabolismo aiuta anche a sgonfiare la pancia e depurare il colon così è più facile avere la pancia piatta per seguire tutte le nuove uscite dei miei video ogni giorno basta iscriversi al canale è facile con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto mangia sano e dimagrisci